A proposito di dire le concorrenze, il Presidente della Repubblica ha definito la proroga delle concessioni per il commercio ambulante eccessiva e sproporzionata, ritenendo indispensabile a breve, cito, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento, ed è tornato anche sui rilievi analoghi sollevati a proposito della questione dei balneari. Io le volevo chiedere se e come intendete intervenire sia sulla questione dei balneari che su quella degli ambulanti. Per quello che riguarda il tema dei balneari, lei sa che questo Governo ha fatto per la prima volta un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima, che è la mappatura delle nostre coste per stabilire se esista o non esista il principio della scarsità del bene che è fondamentale per l'applicazione della direttiva Wolkenstein. Questo curiosamente in tutti questi anni dai quali la direttiva Wolkenstein è entrata in vigore, nessuno ha ritenuto di doverlo fare. Noi su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del Governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità e quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente